Nome. Michael Lupo. Soprannome. L'uomo Lupo. Numero vittime. 5. Modus operandi. Strangolamento, mutilazioni, stupro. Michael Lupo nasce in Italia nel 1953. Poco si sa della sua infanzia. Da ragazzo ha prestato servizio nell'esercito italiano e nel 1975 si è trasferito a Londra, Inghilterra, dove ha iniziato la sua carriera da parrucchiere. Michael Lupo era un omosessuale, si vantava di avere tanti amanti, praticava sadomaso, e si divertiva a filmare il tutto. Ma questo stile di vita lo portò a contrarre l'AIDS. Questo episodio ha scosso profondamente l'uomo, il quale deciderà di vendicarsi sulla comunità gay. Sarà una vendetta violenta che terrorizzerà tutta la comunità omosessuale londinese. È il 15 marzo del 1985. James Burns, 37 anni, è stato ritrovato da un passante in uno scantinato di Londra. L'assassino si è accanito brutalmente sulla vittima. James è stato sodomizzato, mutilato con un rasoio e ricoperto di escrementi. Probabilmente l'assassino gli aveva diffecato addosso, segno di profondo odio e disprezzo. La lingua di James era a pezzi. La vittima se la è morsa in preda agli spasmi dovuti ad un atroce dolore. 5 aprile 1985. Anthony Connolly, è stato ritrovato morto da dei bambini mentre giocavano in un capannone vicino alla ferrovia. Omicidio identico a quello precedente. La vittima era stata sodomizzata, mutilata terribilmente e imbrattata degli escrementi dell'assassino. Questo ennesimo caso, identico a quello precedente, allarmò le forze dell'ordine. Era chiaro che si aggirava un serial killer, un sadico non intenzionato a smettere di uccidere. Iniziarono ad accelerare le indagini. Bisognava fermarlo il primo possibile. È il 18 aprile dello stesso anno. Lupo stava lasciando un bar gay quando ha incontrato un anziano vagabondo. L'assassino non ha potuto resistere un attimo. Ha tirato un calcio all'inguine dell'anziano, lo ha buttato a terra e lo ha strangolato a morte. Scaricò il corpo sulla riva del Tamigi. Il giorno seguente Lupo ha incontrato Mark Leyland. L'assassino, dopo aver fatto prendere un po' di confidenza a Mark, lo invitò per far sesso in un bagno pubblico lì vicino. I due andarono verso il bagno ma Mark cambiò idea. La reazione di Lupo fu violentissima. Prese una spranga di ferro e iniziò a colpire l'uomo a morte. La comunità gay di Londra era parecchio agitata. Le acque erano agitate, e l'assassino seriale è riuscito a tenere a bada i suoi impulsi omicidi fino al 24 aprile del 1986. Damien McCluskey fu trovato morto in un seminterrato. Era stato violentato, mutilato con un rasoio e strangolato. L'assassino seriale era tornato all'attacco. È la notte del 7 maggio. Lupo incontra un altro gay e tentò di strangolarlo con una calza, ma l'uomo riuscì a scappare. È stato grazie alla testimonianza del sopravvissuto che la polizia riuscì ad identificare Michael Lupo. La polizia entrò in borghese in un locale gay e arrestò l'assassino seriale il 18 maggio 1986. In seguito la polizia perlustrò la casa di Lupo. C'era una stanza dove praticava Sadomaso. La sua perversione sessuale era così forte che gli agenti, inizialmente, pensarono fosse la stanza delle torture. In sede di processo fu ritenuto in grado di intendere e volere, e fu condannato all'ergastolo. Lupo muore nel 1995 in carcere a causa dell'AIDS.